Purtroppo oggi sono arrivato in cima al baldo con la tavola perché non c'era Rinaldi e quindi sono riuscito a portare sulla tavola con Zangrossi il quale ha già iniziato a scendere, però la situazione è questa, non si vede niente, siamo arrivati in cima, quello lì che si scorge appena appena sono le rocce del traverso dove poi a destra c'è punta telegrafo, qua sotto c'è il canalone che porta giù ma toccherà farlo a velocità ridotta e non a chiodo come era nei miei programmi, togli i ramponi e inizio a scendere. Che sfiga, non si apre, è bello in piedi, non si vede ma è bello in piedi perché per salire abbiamo usato i ramponi, però purtroppo non si vede un cazzo. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta, next time, ciao!